Nel corso della settimana andremo incontro a un vero e proprio ribaltone meteo, infatti l'alta pressione che ha interessato il centro nord per diversi giorni, prolungando una fase di stampo tipicamente estiva, ed il maltempo che invece ha interessato il sud, si porterà gradualmente verso i Balcani, dando luogo a un deciso rinforzo di un campo anticiclonico. A partire da giovedì, alta pressione che quindi riporterà il bel tempo e un caldo nuovamente estivo sulle nostre regioni centro-meridionali. Di conseguenza invece, area più fresca dall'Atlantico raggiungerà il nord-ovest e la Sardegna, dando luogo anche a un peggioramento del tempo, a tratti anche marcato, con l'arrivo di piogge sparse temporali che nel corso di giovedì raggiungeranno inizialmente il nord-ovest, il medio-alto tirreno e la Sardegna, con fenomeni anche temporaleschi che poi entro giovedì sera si porteranno verso il nord-est. Sempre in serata, acquazioni e temporali raggiungeranno anche la Toscana e il medio-alto Lazio. Sempre bello invece sul resto d'Italia, con temperature in generale ma anche sensibile diminuzione sul settentrione, grazie anche alle precipitazioni temporalesche che a tratti risulteranno anche di forte intensità. Caldo in aumento, come dicevo poc'anzi, invece al meridione. Con questo è tutto per aggiornamenti in tempo reale, scaricate l'app di Trebi Meteo.